salve cari amiche cari amici purtroppo ci troviamo qui a commentare una disgrazia perché come in un film se non mi sbaglio titolato parigi arde che si rivela molto profetico in questa occasione ebbene parigi arde di nuovo dopo la rivoluzione francese dopo la guerra dei cento anni dopo la seconda guerra mondiale adesso parigi arde l'aveva anche dichiarato dei gol parigi violentata parigi bruciata parigi saccheggiata parigi invasa parigi liberata bene adesso il parigi è rimasta bruciata perché sei rimasto bruciato è rimasta bruciata notre dame notre dame la cattedrale di notte drama notere da cioè della nostra signora nella nostra dama e io ho visto quando è caduta la guglia sul tetto io ho visto quando incendiava il tetto ma soprattutto l'hanno visto centinaia forse migliaia di turisti è una cosa incredibile addirittura stupida questo questa mania di andare filmando tutto con il cellulare di cui ne ha parlato anche il papa perché anche molti religiosi vanno di qua vanno di là con il cellulare a filmare tutto con il cellulare ma io dico ma che è questo affanno bene allora i vigili del fuoco i pompieri non sono riusciti a accedere all'incendio per tempo per tutta questa gente che c'era infatti se l'incendio fosse successo 20 o 30 anni fa la gente avrebbe pensato a scappare non come al giorno d'oggi che rimangono lì per filmare col cellulare con la camera fotografica con la filmatrice io per esempio per esempio ai miei tempi quando andavo in giro con la macchina fotografica ho fatto un tour in spagna nell 89 non pensavo a fotografarmi purtroppo perché avrei potuto dar un giro alla macchina girare la macchina e fotografarmi come sto adesso facendo con questo cellulare che non ha una camera frontale quindi sto guardandomi allo specchio ecco vedete c'ho lo specchio 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 delle mie brame chi è il più bello del reame oppure se uno giardiniere specchio specchio del mio giardino non fa rima specchio specchio del reame chi spruzza meglio il verde rame ma ecco io mi devo filmare davanti allo specchio così c'è una buona inquadratura quindi ai miei tempi e fino a quando i cellulari non si sono diffusi con camere sofisticate eccetera capacità anche di mettere online i filmati la gente non girava alla macchina fotografica o la filmatrice per firmarsi si faceva al limite fare uno scatto da qualcuno sempre che non se ne uscisse non se ne scappasse via con la macchina fotografica quindi anni fa se succedeva un incendio di quella portata i turisti se ne andavano tutti non rimanevano lì a guardare invece oggigiorno che col telefono si fanno fotografie tu me l'avessi detto 30 40 anni fa non ti avrei creduto col telefono fare fotografie ma una pazzia adesso nel telefono c'è il walkman il cd man videogiochi c'è di tutto nel telefono la gente è rimasta lì a fare fotografie e filmati per essere i primi a caricare materiali intranciando il lavoro dei vigili del fuoco quindi non so per quale ragione i pompieri i vigili del fuoco sono dovuti rimanere nel retro e poi non hanno mandato né elicotteri né aerei canna dei perché avrebbero potuto forse non hanno voluto danneggiare il tetto ma l'hanno già danneggiato le fiamme avrebbero dovuto lanciare tantissima acqua da subito invece hanno fatto passare una mezz'ora un'ora pratica non hanno potuto fare nulla incredibile incredibile che un luogo così importante architettonicamente artisticamente culturalmente si ha svaporato si è andato in fumo però come dicono gli stessi francesi se la v e la vita d'altra parte io non vorrei consumare delle facili ironie ma il dio dove stava che non è intervenuto non ha spento le fiamme incredibile quella era la casa vabbè della nostra dama cioè di notre dame della vergine maria della madre di dio ed io si vede che c'è molte proprietà per il mondo che se ne frega di una in particolare però era una casa molto importante forse ci aveva mille anni è un immenso valore e poi dico fare dei lavori in un edificio così non solo sacro per tutto il mondo della cristianità ma addirittura così antico e di così tanto valore prestigio senza un minimo di precauzioni è una cosa un po da sciocchi per non dire da stupidi e non hanno presso nessuna precauzione vabbè che a noi la mafia mi sembra ci abbia bruciato il teatro della fenice in italia quindi è anche l'attentato alle torri dei gerogofili in cui hanno voluto uccidere lo stesso maurizio costanzo perpetrato dalla mafia che dire allora gli esseri umani si comportano una maniera molto stupida ma questo lo sapevamo già che gli esseri umani si comportano in una maniera stupida sto cercando ecco così di relazionarmi bene con cellulare e quelli che dire è stata una cosa una cosa pazzesca una cosa una cosa che non si può credere quello che è successo in uno degli edifici più importanti d'europa più importanti del mondo più importante di francia più importanti di parigi ecco come fanno a succedere queste cose voglio ritornare sul particolare però mi sto firmando con il nokia asha 302 lo vedete oggi non ho accesso l'altro telefono perché lo sto usando troppo oggi lunedì io questa domenica pensando fosse Pasqua ho fatto il video comunque vabbè io ho fatto i miei auguri per anticipato e poi ho caricato in community tutti i video che ho fatto fino adesso come video auguri per Pasqua guardateli e condivideteli queste sono state le mie riflessioni circa il centro l'incendio di notre dame de paris la cattedrale che per me è un orrore uno scempio soprattutto perché è stato provocato non intenzionalmente ma è stato provocato dall'intervento umano perché fosse stato provocato dagli elementi ancora ancora e poi dio non è intervenuto non è intervenuta la vergine maria non è intervenuto gesù che adesso viene Pasqua allora che significa è la casa di dio se ne fregato perché ne ha centinaia o migliaia in tutto il mondo oppure lasciamo alle conclusioni che significa che simboleggia questo incendio per i credenti ecco voi che ne pensate di quello che è successo scrivetelo nei commentari e condividete questo video anche affinché affinché anche altri possano condividerlo e commentarlo soprattutto vorrei che la gente commentasse questo video per farmi sapere cosa pensa nell'episodio della forma in cui i poppieri i vigili del fuoco non sono riusciti a spegnere l'incendio non potevano non avevano i mezzi è stato troppo tardi perché non hanno messo dei sensori antincendio oppure non hanno non sono intervenuti nella maniera più appropriata voi che ne pensate la gente si è comportata male i turisti che non si toglievano di mezzo scrivete tutto nei commentari e condividete il video affinché anche altri possano commentare quello che pensano allora un abbraccio se di nuovo rinuovo i miei auguri di buona pasqua a tutti e tutti voi e niente questo è stato il mio pezzino del giorno su un evento così tragico che ci tocca a tutti culturalmente ciao dal vostro sant'enciano grazie a tutti